I più anziani ricordano ancora oggi di 78 anni fa, 31 agosto 1943, nel pieno della seconda guerra mondiale Pescara è stata pesantemente bombardata dalle forze alleate, 3.000 morti nei soli bombardamenti di agosto e settembre, ma alcune fonti parlano del doppio, l'80% degli edifici è andato distrutto, i più anziani ricordano le voci festose di tanti bambini che si apprestavano a fare il bagno in mare, di lì a poco l'arrivo dei bombardieri le urla il pianto, il sangue di vittime innocenti, erano le 13.20 di un caldo pomeriggio di fine estate, la spiaggia affollata, gli aerei dell'aeronautica americana arrivarono dal mare, sganciarono le bombe sul centro cittadino, l'attacco fu devastante, vennero rasi al suolo le aree comprese tra le attuali via Nicola Fabrizia e via Firenze, nonché il palazzo del governo che allora ospitava il presidio militare, la stazione non fu colpita, ma a distanza di qualche giorno le bombe furono sganciate anche lì, una carneficina era il 14 settembre, Pescara divenne una città fantasma, in tanti andarono sullati nei paesi dell'entroterra o nella vicina Chieti, dichiarata città aperta, gli altri due attacchi degli angloamericani il 17 e il 20 settembre, nel 2001 il presidente della Repubblica Carlo Azzelio Cempi ha conferito alla città di Pescara la medaglia d'oro al merito civile e il muro della stazione vecchia ricorda quella profonda ferite, le cicatrici di quegli attacchi mirati a colpire i tedeschi che però c'è chi dice già se ne fossero andati da Pescara, invece come sempre accade le bombe uccisero tanti innocenti. L'amministrazione comunale di Pescara rende omaggio alle vittime civili e militari alle 13 e 20 di oggi, nello stesso momento di 78 anni fa, c'è stata la diffusione dagli altoparlanti di Radio Mare di un audio riproducente i suoni originali di una sirena antiaerea, dei motori, dei bombardieri e di un bombardamento eseguito da questi velivoli, seguito da un testo esplicativo e commemorativo a cura di Giulia Basel e Alessio Tessitore. Poi, largo occhiola, Piazza Italia, cerimonia istituzionale con la deposizione di una corona ai piedi della lapide che ricorda le vittime del bombardamento, a seguire l'intervento del sindaco Masci con le altre autorità. Intanto il comitato di cittadini che si è costituito ad hoc chiede al sindaco Masci di salvaguardare quel muro sopravvissuto alle bombe, alla mercè di balordi che addirittura vi urinano sopra, uno sfregio a una delle pagine di storia che Pescara non può e non deve dimenticare.